Si celebra oggi in tutta Europa il Safer Internet Day, giornata istituita dalla Commissione Europea nell'ambito del programma che ha l'obiettivo di promuovere un utilizzo sicuro e responsabile di Internet e delle nuove tecnologie da parte degli utenti più giovani. Da un'indagine infatti borata dalla Microsoft, tre minori su quattro sono contattati da sconosciuti mentre i genitori risultano sempre più spesso troppo assenti. Da oggi sarà possibile vedere e ascoltare i consigli utili sul sito www.sicurinerete.it e nello spot trasmesso della 7 che vi mostriamo.